Ciao raga, bentornati sul mio canale youtube, oggi secondo appuntamento di giornata in questa vigilia, infatti mi vedete tutto quanto impettito pronto per azzannare il cibo però ci tenevo a far uscire questo video ora in maniera tale che metto a freno i vostri bollori che già so che stanno ardendo in più domani mattina quando sarò in live potrò spammare questo video senza ripetere le cose 877,924 volte di fatto è uscito il buon Bobby Firmino Freeze, finalmente è uscita una carta che salva sta promo dei Freeze che per me era assolutamente fallimentare salva la pace di magari Marchini o Sadam e Awar ma questa è la vera carta utilizzabile al 100% perché parliamo di un giocatore totale, un giocatore che può essere usato in competitive, nella squadra per fare il torneo del cortile, in weekend league, quello che vi pare quindi andiamocelo a guardare, subito subito prima di andare ad analizzare le statistiche andiamo a vedere che si tratta comunque di una carta che dura 20 giorni quindi sta qua, non scappa eccetera eccetera quindi avete tempo magari di accumulare ulteriori premi della VL, pick rossi eccetera eccetera da sacrificare al dio Bobby Firmino e abbassare il prezzo di quella che è un SBC che costa sicuramente tanto intesa squadra in questo caso 80 con valutazione 84, valutazione 85 con intesa 75, una Premier con valutazione 86 giocatori squadra della settimana minimo 1, FUT Champions 1 e valutazione 86 e infine una valutazione 88 per cui parliamo di un giocatore che comunque come prezzo si aggira sul milione e sicuramente non è economico ma che per me è assolutamente giustificato il prezzo andando a guardare quelle che sono le sue statistiche di fatti parliamo di un giocatore di 1,81m quindi abbastanza alto, alto alto quindi fa sia la fase offensiva che la fase difensiva con la stessa intensità, mosse abilità 5 per cui permette di poter avere anche un po' di varietà in mezzo al campo e 4 di piede debole, questo che cosa vuol dire? Che quando andate a smistare palla con sto Firmino in mezzo al campo destro-sinistro non fa la differenza e effettivamente le sue stasi passaggio le sentite per quelle che sono perché magari uno ha 96 di passaggio ma due di piede debole, fa un passaggio col sinistro e la butta al terzo anello quindi ottimo sotto questo punto di vista. Andando a guardare poi le statistiche nel dettaglio abbiamo un 79 di accelerazione e un 78 di velocità scatto che per quanto riguarda Firmino a meno da quello che ho visto io in precedenti test che ho fatto, magari in draft delle altre versioni mi sembra un parametro abbastanza fake perché lo sento molto molto più rapido in game e in più sapete che comunque col boost magari di un'ombra quella è una statistica che sale per quanto riguarda le statistiche di tiro abbiamo un ottimo 80 di finalizzazione e un 82 di potenza tiro per quello che ricordo che nasce in questa versione come CC per cui come giocatore di mezzo al campo ha anche insomma la licenza di uccidere sotto questo punto di vista ha un ottimissimo passaggio corto 93 e un ottimo passaggio lungo con 82 per cui in mezzo al campo vi da sia quantità che qualità quantità data da quelle che sono le statistiche difensive che vengono boostate in maniera incredibile abbiamo addirittura intercettazione 83, precisione testa 87, lettura difensiva 86 cosa vuol dire lettura difensiva 86? vuol dire una cosa sola ossia tanti movimenti automatici, tanti interventi automatici il suo giocatore ve lo ritrovate al posto giusto nel momento giusto quanto serve contrasto in piedi 90 e 83 di scivolata vuol dire che quindi lo sentite anche in fase di recupero palla ha 81 di agilità quindi quando lo muovete con l'L2 questo qua scivola che è una bellezza come la Carolina Costner dei tempi d'oro equilibrio 82, reattività 86, ottime stats anche di controllo palla e dribbling visto che comunque è un giocatore molto tecnico e freddezza 84 tanta roba, anche le stats di fisico, elevazione 87, resistenza 95, forza 80, aggressività 81 quindi vuol dire che comunque quando si attacca all'avversario diciamo gli morde le caviglie non lo lascia in maniera facile ed è veramente una carta che per me è totale può fare tranquillamente il CC nel 4-4-2, il CDC nel 4-2-3-1, il CC in un rombo altri ruoli eviterei, il COC magari è un pelo lento per poterlo fare COD, COS stessa cosa, appunto è un attacca a 2, idem, visto il meta attuale non mi iniziate raga per favore però a spammare nei commenti è meglio D, è meglio Pogba, Renato, questo, quell'altro questo qua è un giocatore che va bene con tutto raga lo potete abbinare con qualsiasi compagno di reparto ci potete mettere vicino Viera, Zidane, Renato, eccetera eccetera Kante, Pogba, eccetera prima di poter fare però effettivamente dei paragoni sarà bene provarlo, però per provarlo viene sempre in soccorso la possibilità di sbloccarlo in prestito infatti se voi scorrete lo dovreste trovare anche in prestito da queste parti spero che ci sia eccolo qua, Roberto Firmino in prestito vi dura tre partite, magari ve lo testate in amichevole dove sapete che non vi scala i contratti per me questo è un giocatore assolutamente totale, totale fa sia la fase offensiva sia la fase difensiva è un giocatore che secondo me verrà utilizzato un botto in qualifica perché ho però l'89 quindi è perfetto secondo me è stato costruito ad hoc per il competitive sta carta secondo me ve la sparo lì senza ancora provarlo lo proverò e lo sbloccherò e vi farò sapere ci porterò magari una review poi con dell'effettivo gameplay prima ancora di sbloccarlo vi dico che questo qua secondo me è superiore a tutti l'unico col quale se la va a battere tolte le icon è Renato Sanchez perché quel Renato Sanchez sebbene magari sia un po' più piccolino e quindi sto Roberto Firmino abbia comunque un po' più di presenza in campo e sia un po' più insomma ingombrante quel Renato è un giocatore completo c'è poco da fare, è rapido, è tecnico, finalizza gli manca magari un pelino di qualità ma comunque voglio dire il suo lo fa va testato sto Firmino perché a parità di prezzo secondo me il buon Renato anche in ottica futura di upgrade potrebbe essere un pelo superiore ma per tutti gli altri Bruno Fernandez, Pogba e compagnia cantante sto Firmino non se lo vedono proprio perché sapete che Bruno è molto più offensivo e difende meno Pogba insomma anche lì la fase difensiva si ok ma fino a un certo punto lì magari c'è anche un problemino di velocità sto Firmino secondo me si piazza proprio sul podio primo o secondo posto dei centrocampisti non Icon attualmente soprattutto in meta perché questo raga lo vedete spammato come non mai e nulla per questa rapida preview come al solito ragazzi è tutto mi auguro di aver toccato tutti i vostri dubbi ripeto lo proverò lo testerò vi farò sapere successivamente cosa ne penso fatemi sapere insomma se andrete a provare questa carta che vi ripeto per me sulla carta è assolutamente devastante ineccepibile sto Firmino lasciate un like come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale mi raccomando andate a mangiare a breve sfondatevi again ve lo ribadisco l'invito per tutte le live giornaliere trovate l'info in descrizione e io vi saluto e vi auguro ancora una volta buona vigilia ragazzi ciao 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 ciao